Buongiorno a tutti. Insomma, fare un intervento con questa platea, credetemi, non è una cosa facile, anche perché non sono certo abituata a preparare nessun genere di argomento o di informazioni da dare che non siano così proprio stemporane e a braccio. Cosa dire? Vi ringrazio perché siete comunque numerosi. Fare l'elogio a FIAIP è un qualcosa di assolutamente inutile, è scontato. La platea del resto, il numero delle persone in platea confermano che elogiare FIAIP è una cosa assolutamente scontata. Allora, vi parlo non come Presidente provinciale, ma vi parlo in base all'esperienza degli ultimi due anni come Presidente del Consiglio nazionale. Ringrazio innanzitutto Silvia Urru e Fabrizio Floriani che mi hanno accompagnato in questo percorso. Dopodiché mi fermo un attimino perché, giuro, veramente mettete panico. Allora, quello che abbiamo constatato io, Silvia Urru e Fabrizio Floriani, ma particolarmente io, è che avere una visione di FIAIP all'interno della camera, che non è una camera blindata, ma è una camera aperta, dà una visione e una valutazione della nostra struttura federativa e della nostra federazione completamente diversa. Sono dell'avviso che chi conosce può apprezzare, che al di fuori molto più facilmente contesta gli operati, però non comprende la mole di lavoro, la passione, il tempo e soprattutto il grande entusiasmo con cui ci si spende. Poi, chiaro, siamo esseri umani, per cui ovviamente non siamo certo infallibili. Però, credetemi, questi due anni mi hanno fatto apprezzare la mia federazione in una maniera addirittura esagerata, però non c'è mai un troppo quando ci si vuole bene. Ecco, diciamo che apprezzo l'operato di molti di voi, ho potuto constatare questo, abnegazione, spirito veramente di sacrificio, soprattutto entusiasmo nel cercare di tirar fuori da un magico cilindro quelle che possono essere le opportunità per gli associati. Io non voglio spendere parole così tanto a favore di alcune operazioni, alcuni interventi che la nostra federazione negli ultimi due anni ha fatto, però nessuno fino ad adesso ha parlato del Cerca Casa, del Cerca Casa Re, della MLS, la nostra piattaforma, qualcuno può abiettare e dire sì, d'accordo, sono parole, sono concetti vuoti, l'ho sentito questo discorso, ma dobbiamo riempirli noi, non è che si possa fare nient'altro. Se noi per prima non riempiamo questi concetti con un operato fattivo, costruttivo, non è che si possa inventare niente. Del resto mi viene una similitudine così molto spicciola, che la mamma imbocca il bambino, ma se il bambino non deglutisce e non mangia, muore di fame, per cui se all'interno della nostra struttura federativa ci sono gli strumenti che molti di voi non utilizzano o utilizzano parzialmente, insomma io direi che questo è il momento di cominciare ad apprezzarci molto di più, cominciare a stimarci molto di più, scusate non è una polemica la mia, ma è proprio una presa di coscienza che siamo pessimi venditori di noi stessi, non ci proponiamo, non ci sappiamo proporre, tra di noi, parlo proprio di noi come colleghi, come presidenti provinciali, come colleghi comunque della classe dirigente. Se cominciassimo ad apprezzare quello che il Comitato Esecutivo, la Presidenza Nazionale ha fatto e in maniera a critica cominciassimo a vedere le potenzialità di questi strumenti, bene direi che forse, forse, forse un po' di passi in più le avremmo fatti. Ecco, questo è quello che io mi auguro venga fuori da questa assemblea, la consapevolezza di utilizzare ciò che abbiamo, la consapevolezza di spendere ciò che siamo e l'orgoglio di essere FIIP. Grazie per avermi ascoltato.